C'è dall'altra parte? Non sai quanto mi è mancata questa roba. E anche questa. No, Elena, no! Ha appena riavuto la sua umanità, lascialo vivere un po'. Ehi, ti piacerebbe? Sono morto, che può succedere? Mi arresteranno. Almeno avresti un posto dove vivere. Siete due sciocchi. Ehi! Ah, eccolo lì. Quel sorriso. Non ero sicuro che l'avremmo rivisto. Ho fatto delle cose abbastanza orribili. Ehi, no, niente lacrime. Se Caroline ha ragione, abbiamo solo fino a stasera. Servirebbe una legge antipianto. Ma piangere fa bene. Significa che finalmente sento qualcosa e in questo momento io... mi sento molto felice.